Musica Bentornati da Paolo Corazzona a questo aggiornamento delle previsioni di 3B Meteo per la giornata di venerdì 17 Lo dice un po' anche il numero, sarà una giornataccia in diverse zone dell'Italia In particolare al nord, sulle regioni centrali, specie il versante Tierenico e in Sardegna Tra poco, come sempre, entreremo nel dettaglio Prima però un'occhiata alle temperature Ecco, queste rimangono sempre al di sopra della media La perturbazione infatti è accompagnata da venti meridionali E quindi guardate, temperature minime decisamente al di sopra dello zero un po' ovunque E anche le massime, tolte le regioni settentrionali dove a causa del maltempo i valori saranno più contenuti Però al centro-sud, guardate che roba, si superano i 15 gradi In Sicilia addirittura si sfiorano i venti e siamo a gennaio Bene, ora entriamo nel dettaglio della previsione Al nord, diciamo, maltempo con piogge diffuse per buona parte della giornata Dal pomeriggio si attenuano le precipitazioni a iniziare da ovest Nevicate sull'arco alpino mediamente oltre i 600-700 metri A inizio giornata in Piemonte potrà accadere qualche fiocco di neve anche a quote più basse Ora passiamo alle regioni centrali, come vi dicevo, maltempo soprattutto sul versante Tierenico Però non mancherà qualche goccia anche in Umbria e nelle Marche si salvano solo l'Abruzzo e il Molise Infine un'occhiata al sud Italia dove la situazione sarà decisamente migliore Solo qualche goccia di pioggia potrebbe cadere sull'alta Campania e nel corso della giornata anche in Sardegna Con questo è tutto, aggiornamento in temporale anche su Facebook, Twitter e Google Plus alla voce 3B Meteo